E' una cosa molto bella di trovarsi qui e riuscire a fare qualcosa per la gente che conta poco e mettere di nuovo la luce qua Ma io cerco di fare quello che posso fare e che mi permettono di fare perché esistono delle regole, delle lecce e noi dobbiamo lavorare molto soprattutto sulla legalità Dobbiamo insegnare a tutti quanti noi che il diritto è di tutti quanti Il diritto alla cultura dovresti fare Non esiste più Signor Dancio Deve essere un quartiere di guaglianza Signor Dancio Signor Dancio Un attimo spesso Permesso 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 Grazie Grazie